Nel precedente episodio sono andato per le lunghe quindi per riprendere il filo sul nuovo Defender guardatevi la prima puntata mentre adesso frase d'effetto e poi cerchiamo subito di capire altre differenze tra nuovo e vecchio. Parlando del nuovo Defender la verità secondo me è che abbiamo assistito alla nascita del nuovo fuoristrada nella nuova generazione dei fuoristrada e si avvicina abbiamo capito un pochino di più a quello che è il mondo la galassia dei SUV e lo fa da tutti i punti di vista a partire dalla meccanica ci sono motorizzazioni con potenze impensabili per un fuoristrada per un Defender di vecchia generazione qui si parte da 200 cavalli coi diesel e si arriva ai 400 cavalli del 110 X che sarebbe X ma la pronuncia è X X conto corrente X mutuo appartamento 110 X che è anche minimamente ibrido motori che ovviamente sono all'ultimo grido in fatto di emissioni e anche questo è un fattore rilevante quanto dureranno a livello di emissioni di possibilità di circolare in libertà i vecchi fuoristrada ecco allora che forse per chi desidera utilizzarlo a piacere soprattutto nei grandi centri abitati ma un domani chissà cosa può succedere la classe di emissioni della propria auto acquisisce una certa importanza ed è qui che allora ci colleghiamo anche con un modo di analizzare a livello pratico la macchina va bene parliamo ad esempio di assetto qui abbiamo terreni response e quant'altro un assetto ad altezza variabile sul nuovo Defender che può arrivare a più 15 può anche scendere però questo vuol dire che in alcuni parcheggi magari supermercato casa insomma alcuni luoghi che non hanno un'accessibilità molto semplice per veicoli alti dall'avari centro molto alto avere la possibilità di variare l'assetto sul momento è fondamentale bellissimi gli assetti più 5 più 7 più 10 più 12 però se magari avete un mezzo rialzato con la tenda sul tetto la bagagliera con gomme altri accessori in alcuni contesti potreste essere limitati e sempre a livello di pratica di utilizzo ormai alcuni comfort secondo me anche durante il viaggio sono fondamentali non è una questione di ma il fuoristrada è così duro e puro cioè durante tutto l'anno voi guidate o siete passeggeri o salite su un taxi insomma vivete in un mondo in cui abs controllo di trazione controllo di stabilità climatizzazione sembra una banalità che io vi riporto a pensare al climatizzatore ma è fondamentale e no perché su alcuni fuoristrada quelli magari preparati quelli che continuano ad essere aggiornati rialzati eccetera abs clima non sono una cosa da poco e per chi fa viaggi ma viaggi di quelli importanti dove fa molto freddo e molto caldo questo tipo di comfort risulta fondamentale quindi sono abbastanza sicuro perché mi sono trovato in situazioni simili che in alcuni momenti in percorsi magari non troppo impegnativi però voi avete preparato un fuoristrada un 4x4 per scalare il k2 d'accordo ma in realtà siete in una caletta in grecia siete in luoghi tutto sommato accessibili dove avete appena incrociato scendendo non so una subaru forester che saliva vabbè toccava un po sotto però andava cioè questo in quei momenti magari in pieno agosto così non avreste barattato un longherone per il clima r134 r12 qualunque cosa un po di aria condizionata l'abs quando magari siete con la famiglia dietro su un mezzo che non è proprio l'ideale per landing stradale ma sull'asfalto piovo avete delle gomme assurdamente non stradali e abs staccabile perché alle volte più sicuro alle volte no ma non avreste barattato un po di quella capacità off road per comfort e sicurezza in alcuni contesti questa è la natura umana non si può mai avere tutto però è condivisibile qualche mio pensiero mi sbaglio ma l'altra faccia della medaglia è magari trovarsi con tanto comfort tanta tecnologia tanto di tutto multi schermo eccetera ed essere però in panne elettroniche nel deserto sui pirenei sulle ande i luoghi veramente dove è qui col nuovo defender land rover specifica che ha messo a punto un sistema ridondante in pratica come una sorta di icloud il vostro scheletro elettronico dell'auto viene riprodotto in più momenti insomma viene aggiornato dalla centralina e viene inviato diciamo alla casa madre quando voi ricevete un aggiornamento non è come per esempio la tesla che necessita che l'auto sia ferma durante l'aggiornamento voi potete continuare la vostra marcia d'accordo e eventuali software migliorati eccetera eccetera vengono direttamente immessi nel vostro sistema diverso è quando c'è un'anomalia che può essere in parte risolta da un reset direttamente dalla casa madre in remoto però e questa fin qui è una cosa bella ma trovandosi sempre le perto le ande vere nei montagni insomma non c'è un'anima nel giro di chilometri ma se non prende nemmeno la connessione come funziona ve lo sto chiedendo bene e se su stile design interni e quant'altro discorso soggettivo l'elettronica può fare paura ad alcuni e a molti altri no dipende se veramente utilizzate in maniera estrema e in luoghi sperduti il vostro defender il vostro nuovo defender oppure no e qui ci ricongiungiamo al primo quesito in quanti fanno veramente fuori strada hard durante viaggi raid incredibili quindi l'elettronica ma su questo dettaglio penso che siamo tutti d'accordo e non credo possa essere considerato come un pregio il prezzo il nuovo defender ha un collocamento decisamente da super sub perché di fatto si avvicina un pochino di più a quel mondo e lo fa davvero tanto col listino quindi illustrarvi un listino che per il defender 90 parte da poco più di 51 mila euro se non ricordo male e supera abbondantemente i 100 mila per il 110 x o ex mi porta a riflettere su un fatto che la clientela a cui punta l'endrover sarà differente questo vuol dire che bisogna prendere atto del fatto che negli ultimi anni sono cambiati i segmenti delle auto è cambiato il mercato sono arrivati i suvi cross over anche i prezzi di listino di molte auto sono lievitati in un modo è cambiato il modo di fare comunicazione ed è cambiata la clientela che si orienta sempre in modo differente a questi fuori strada e sicuramente col defender sarà così anche perché credo che apprezzeranno sempre questa clientela non tutta ma una buona parte il fatto che il defender sempre on top al listino che vi ho detto è l'auto con più accessori al mondo si parla di circa 170 optional un qualcosa che potrebbe fare inorridire alcuni ma che occhi a cuoricino per diversi altri per un po di clienti il domandone adesso potrebbe essere quello ma mi tengo il mio 90 110 td4 td5 oppure no o lo cambio questo solo voi potete considerarlo solo voi potete sapere che tipo di utilizzatori di defender siete stati siete o volete essere magari avete già dato con l'off road adesso volete quel brand ma per qualcosa di più su vizzato di fatto però potendo a chi mi chiede consigli io direi tienitelo il tuo 110 tienitelo compra il 90 nuovo così completi è un cerchio che si chiude hai il 90 vecchio comparti il 110 nuovo hai il 130 vecchio fatti un bel 90 ben accessoriato cerca di essere complementare perché di fatto queste due auto oggi come oggi possono diventare complementari chiaramente se te lo puoi permettere e alla lunga onestamente non prevedo nemmeno che i vecchi defender acquistino ancora più valore questa è un'idea condivisa anche con un appassionato con cui mi sono voluto confrontare prima di parlare con voi si chiama edoardo che saluto è stato molto gentile perché è un'auto il defender di precedente generazione le precedenti generazioni in generale che si è valorizzata tanto ultimamente negli anni in cui ancora magari c'era il dubbio se il nuovo defender sarebbe o meno arrivato è una macchina comunque adesso è abbastanza costosa di conseguenza dubito che potrà innalzare ulteriormente in maniera importante le proprie quotazioni anzi si arriverà ad un punto in cui magari tra 5 6 anni un nuovo defender arriverà a costare 30 25 20 mila euro di conseguenza ci sarà un livellamento tale per cui il mercato dovrà essere di nuovo riprogettato quello riferito ovviamente l'handrover defender perdonatemi perdonatemi perché questo video sarebbe dovuto essere lungo come il 90 in realtà è diventato un 130 col rimorchio ma scusate questo era un argomento da ragionare in maniera così abbraccio e forse sono andato un po oltre però spero di aver risposto ad alcune domande alcuni acquisiti e anzi aver attivato un po di riflessioni anche nei più passionali nei più diciamo attaccati a quello che è il retaggio di questo mezzo mi sono letto moltissimi dei vostri commenti nel video di massimo nel video di alessandro alcuni sono epici ma mi aspetto di trovarne altrettanti anzi di più sotto questo video quindi dateci dentro perché col defender dobbiamo fare ancora tanta strada insieme